infissi in legno alluminio o pvc? ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi qual è il tipo di infisso migliore tra un infisso legno alluminio o un infisso in pvc? dipende dai risultati che vuoi ottenere cioè se tu mi dici ho budget illimitato a quel punto dico scarta immediatamente c'è il pvc perché l'infisso migliore è chiaramente un infisso in legno alluminio che ti consente di avere un isolamento termico molto buono la resistenza esterna dell'alluminio quindi una durata nel tempo c'è quasi infinita e cado al tatto è un prodotto naturale molto importante soprattutto nello scontro col pvc che invece è fatto per metà di sale metà del petrolio diciamo mentre soprattutto nel confronto contro il pvc che invece è un prodotto non troppo naturale perché è derivato da sale da petrolio con degli additivi chimici eleganti per poterlo mettere insieme è un prodotto che ha più difficoltà dal punto di vista dell'ecologia della sostenibilità però il pvc potrebbe essere una soluzione migliore nel caso che magari delle finestre di dimensioni non troppo grandi magari è una casa che non sai se rimarrai lì per tanti anni se puoi magari andare via rivendela o magari se è un appartamento che devi affittare quindi non puoi permetterti di scegliere legno alluminio e rischiare anche che ti venga danneggiato ecco a secondo di queste risposte e soprattutto delle dimensioni dell'esposizione e del colore del materiale è meglio uno piuttosto che un altro nel tuo caso specifico e per trovare queste risposte devi interrogare un consulente solo che solitamente il consulente che hai dall'altra parte è il venditore che deve dare le finestre quindi quando vai dal falegname ti dirà scegliere legno alluminio quando vai a dare il venditore di pvc ti dirà scegli pvc che è meglio come trovare qual è la risposta giusta in un evidente conflitto di interessi rivolgersi a qualcuno che sopra le parti senza nessun interesse di dirti che è meglio un materiale piuttosto che un altro perché non te lo devi vendere direttamente ti saprà consigliare le scelte giuste questo servizio oggi esiste e lo puoi trovare su www.blogvisaki.it dove puoi trovare il servizio di consulenza e richiedere la tua consulenza personalizzata ma fai presto perché ho dedicato solamente 4 ore a questo servizio perché tutto il resto della settimana devo giustamente lavorare per l'abisaki e di lavoro ne abbiamo veramente tanto ciao e al prossimo video